ah ma vado a casa alla ordine vado a casa alla ordine, questa è la risposta dopo la prova tu eri davanti a me nel fuoristrada non so se vado avanti in off come l'hai sentita? ma fa tutto fa tutto quello che pensi di fare non fa non è come le altre moto che ho che sai un po' lo fanno, un po' no